Prima avrebbe avuto una banale discussione con i genitori, poi se n'è andata probabilmente per far sbollire la rabbia, ma si è persa nei boschi sopra Monticolo. Protagonista una ragazza di 18 anni che alla fine fortunatamente è stata ritrovata, ma si sono vissute lunghe ore di angoscia. A dare l'allarme sono stati proprio i suoi. Mamma e papà si erano infatti messi in contatto con la figlia via sms, uno scambio di messaggini per ristabilire la pace tra genitori e figlia. Lei però ad un certo punto ha avvisato di essersi persa e così è scattato l'allarme ed è entrata in azione la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco volontari di Cornaiano, Appiano e Monticolo, uomini del soccorso alpino con le unità cinofile e anche i carabinieri, la guardia di finanza, sono stati impegnati nelle ricerche fino a notte inoltratta. È stata passata al setaccio tutta la zona boschiva attorno allo specchio d'acqua, ma della ragazza ancora nessuna traccia in quella zona. Il cellulare si era scaricato e questo ha reso ancora più complicata la situazione. Poi nel cuore della notte la notizia che la ragazza è stata ritrovata ma era in un'altra zona.